Ok, siamo qui nel Burj Al Arab, l'unico hotel a sette stelle al mondo, ti voglio far vedere la suite, è una roba pazzesca. Eccoci qui, facciamola vedere. Aspetta che chiudo la porta al volo. Eccola qua. Allora, qui c'è la mia zona business, mi hanno messo il computer, qua abbiamo aperto lo spumante che ci hanno offerto. È analcolico, però ci è piaciuto veramente tanto. Qui ci hanno fatto trovare le fragole, uno spettacolo. Ed ecco la panoramica sulla suite, un posto veramente, veramente stupendo. Questo qui è il piano di sotto, adesso andiamo a vedere di sopra cosa c'è. Ovviamente la suite ha due piani e questo qui è il piano di sopra. Qui la cosa che mi ha fatto impazzire è stato il videoproiettore con l'orario proiettato lì sulla parete. Mi è piaciuto un sacco. Andando qua di sopra invece c'è il bagno. Eccolo qui. Immancabile chiaramente la jacuzzi e ci hanno anche fatto trovare i prodotti per Alice e per me, chiaramente per la barba, per farsi belli. Questo qui è ovviamente il guardaroba. Adesso ti faccio vedere la stanza principale. Eccola qua. Facciamola vedere bene. No, veramente, veramente un posto super. Non pensavo potesse esistere un posto del genere. E la cosa più sconvolgente è stata trovare il menu dei cuscini. Ti mettono il menu dei cuscini e ci hanno detto qualora non ti piacessero questi qui, puoi scegliere dal menu quelli che più desideri. Quindi veramente una cosa pazzesca. Che dire, io non vedo l'ora di passare la notte per verificare se effettivamente questi cuscini sono magici. Ci hanno detto che con questo letto che si adatta alle forme del corpo, praticamente dormirai bene e ti sentirai super carico il giorno dopo. Non lo so, ve lo farò sapere. Però che dire, un altro sogno che si realizza e contentissimo di essere qui.